Allora, sì, prego. Allora, aspettate un attimo, consigliere. Allora, legga tutta la mozione. Eh, ma gliel'ho dato... Eh, la legga per cortesia, così resta verbale. Attenzione, magari la premessa è uguale. No, no, legga anche la premessa, per cortesia. Va bene, grazie. Eh, allora, nomina commissione d'indagine sullo scioglimento anticipato top. Considerato che in data 29 maggio 2002 è stata costituita la società Torino Ovest Produce S.P.A., con durata fino al 31-12-2050, poi trasformata in S.R.L. il 28 aprile 2004, che in data 7 dicembre 2011 è stata consegnata ai capigruppo copia della bozza di delibera con la quale il Consiglio Comunale, nel previsto Consiglio del 21-12-2011, dovrebbe deliberare lo scioglimento anticipato della top a causa della prevista chiusura in perdita della società per il terzo anno consecutivo e dell'azzeramento del capitale sociale. Che negli anni precedenti, più volte ai consiglieri comunali che ne chiedevano lo scioglimento, è stato risposto dall'amministrazione che la società fosse molto utile alla comunità per i servizi che stava sfolgendo e che le difficoltà finanziarie sarebbero state superate grazie al potenziamento dei servizi che la stessa amministrazione avrebbe affidato alla società. Cosa che poi è avvenuta. Che nella risposta all'interrogazione di Civica del 22 settembre 2010, protocollo 55-455, dal titolo situazione finanziaria top, il CDA, a conclusione della descrizione dettagliata delle azioni messe in essere per il risanamento della società, si impegnava a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2011. Il Consiglio Comunale nomina una commissione consigliare di indagine secondo le modalità previste dall'articolo 50, 51 e 52 del regolamento sul funzionamento degli organi collegiali allo scopo di effettuare una ricostruzione ragionata della storia societaria ed economica della top acquisendo tutti gli atti e le comunicazioni di natura pubblica e riservata. Bene, io penso che sia chiaro adesso che cosa si va a votare. La parola al Consigliere Capone.